eccoci qua amici sempre in diretta live alla nostra movida ecco qua sono accanto alla splendida giovanna rigato che abbiamo appena avuto il piacere di rintervistare il nostro dottor felix ma siccome è talmente un personaggio che devo fare parlare lui perché sono curiosa di sapere cosa sta facendo cosa sta combinando ma intanto saluto a tutti quanti fatti auguri a questa signorina donna principessa se ti può dire f i g a ok la gio veramente rigato numero uno in assoluto la serata è per lei ok bellissima si vede non lo devo dire io sono fantastici poi tra l'altro ecco lui giustamente anche ha precisato questa serata in onore della nostra giovanna rigato ecco raccontaci un po di della tua esperienza professionale di cosa ti stai occupando ora cinema produzione di sui grafici eccetera eccetera serata dappertutto radio queste cose qua e sto sempre in giro perché la gente mi vuole vedere in giro e mi chiamo dappertutto per fare le serate sono tornato a Napoli dopo domani torno vado a Parigi sono sempre in giro porta avanti i messaggi di giro attraverso la musica e vengono i posti giusti come stasera low fashion solo per lei solo per la rigato ok solo per il numero uno e non lo dico perché è qua perché lei lo sa che io dico le cose come stanno giusto giusto infatti anche in radio abbiamo spaccato io e lui si abbiamo fatto un programma radio insieme e ragazzi state a vedere che fra un po' secondo me succede qualche cosa di abbastanza yo 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 però ce lo prometti che ci segue anche noi di Radio Rollers run baby run baby run to the runners yo run baby run baby let me see you run yo Giovanna is running, Dr. Felice is running, runners yo in the house, ciao, we love you buonasera all'auti Giovanna Rigato, Dr. Feli grazie, sei bellissimo anche te, grazie a tutti quanti, anche lui lì dietro è un figo, ciao ragazzi grazie